Non considero il Piacenza una squadra in crisi, come ho detto ai miei ragazzi il Piacenza è sempre il Piacenza, in quello stadio non mi aspetto una squadra in difficoltà, anzi mi aspetto una partita difficilissima perché quando i giocatori forti vogliono dimostrare il loro valore viene sempre fuori una partita difficile, perciò assolutamente non ritengo il Piacenza una squadra in crisi. Diciamo che il Fiorentuola come tutte le partite di quest'anno è alla ricerca di punti salvezza, perciò anche domenica noi dobbiamo cercare di tornare a casa con un risultato positivo, perché essendo una neopromossa, avendo come obiettivo questo, la nostra umiltà è quella di venire lì a cercare punti appunto per questo obiettivo, sapendo che in quello stadio lì vorremmo tutti quanti fare bella figura.